Ripiomba come un macigno il dramma dei tumori lungo la fascia ionica cosentina. L'aspe di Cosenza ha da tempo istituito un registro dei tumori, ma i dati non vengono resi noti, si legge sul sito istituzionale per ragioni di privacy. Nel frattempo si continua a morire, lasciano la vita terrena ragazzi tra i 28 e i 40 anni e molti ultra 50 anni. La soglia della mortalità si abbassa inesorabilmente e le famiglie colpite vengono lasciate nella più assoluta solitudine. Non ci sono punti di riferimento istituzionali a cui rivolgersi, ancora peggio per le famiglie costrette ai soliti viaggi della speranza. I dati sono in un trend sempre abbastanza sostenuto. Molte volte ci sono casi eclatanti come questi dei giovani che abbiamo perso in questo periodo, ma c'è tanta gente che in silenzio si ammala, si cura e l'opinione pubblica non è a conoscenza. La situazione non è al centro dell'agenda né politica né istituzionale. Occorre ripetire i dati reali e risalire alle cause. Non c'è nessun ente che tiene una statistica dei tumori, sia per qualità dei tumori e sia per il numero dei tumori. Andrebbe istituito il registro tumori subito per avere sotto controllo in quali aree della nostra provincia è più accentuata questa presenza di incidenze dei tumori. Sarebbe una cosa utile per poi capire le cause che lo provocano. Le cause possono essere di svariata natura, che vanno dal fumo all'alimentazione, all'inguinamento dell'ambiente. Quel che è peggio è che anche i pazienti con sospetta neoplasia sono costretti alle lunghe attese per gli esami diagnostici e, come è noto, sui tumori il fattore tempo è determinante.